ministro c'è questa notizia che gli americani stanno mandando più forze militari in medio oriente e ieri c'è stato stamattina c'è stato il grande borbondamento israeliano si parla di oltre 300 morti quando è che l'unifil rimarrà sempre al suo posto e quando invece è il momento di evacuare i militari casi più decisioni rispetto all'unifil noi abbiamo oltre mille uomini lì che adesso sono sicurezza compatibilmente una situazione in quale quella di grande tensione e sono un'operazione di peacekeeping non peace enforcing quindi anche l'armamento e l'armamento l'operazione di pace il ministro grosetto ha scritto anche al segretario generale delle nazioni unite per avere garanzie sulla sicurezza dei nostri militari poi c'erano i problemi degli altri italiani che vivono in libano come ha detto siamo pronti alle evacuazioni dei 3 400 cittadini che invitiamo a lasciare il paese e se ci fosse un'emergenza può essere un'operazione dello stato italiano e per i militari tutto verrà seguito dal ministero degli esteri e del ministero della difesa in sintonia con le nazioni unite quindi però per adesso non c'è nessuna ipotesi di evacuazione dei militari Grazie Grazie